Ciao sono Gokeji, oggi siamo nuovamente qui con un nuovo giveaway con ben 2564 chiavi in questo momento di Supernova Supernova è un MOBA che tanto va di moda ora della Namco, adesso poi vedremo il gameplay insieme comunque basta iscriversi al sito che comunque metto il link in descrizione e cliccare su Gokeji, poi qua How to get your giveaway vi dice tutto come poterlo attivare non è su Steam ma dovrete crearvi un account per Supernova avete il vostro programmino e poi vi inserite il codice ed è tutto a posto, quindi 2500 ora probabilmente quando caricherò il video saranno comunque attorno al 2500 credo quindi dovrebbero esserci per tutto quindi adesso partirà il trailer che credo taglierò un po' l'inizio e un po' la fine per problemi di copyright e quindi ci vediamo dopo per i saluti let's go 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 non sembra neanche tanto male, quindi direi che anche per questo episodio è tutto, come sempre commentate, iscrivetevi, un bel mi piace e al prossimo episodio.